Proseguiamo quindi nella materia dell'urbanistica andando a vedere le principali leggi che la disciplinano. A differenza di altre materie ed in particolare ad esempio dell'edilizia dove possiamo trovare il DPR 380 del 2001, qui non c'è un unico testo normativo. Possiamo partire però citando ad esempio la legge 1150 del 1942 cosiddetta legge urbanistica fondamentale. Tale legge ancora vigente è tra le prime norme che disciplinano lo sviluppo edilizio ed urbanistico dei centri abitati e lo sviluppo in genere del territorio della Repubblica. In particolare la legge 1150 del 1942 introdusse l'uso di piani regolatori territoriali, ovvero quelli a livello regionale e provinciale, nonché piani regolatori comunali o intercomunali. Introdusse poi i piani particolareggiati che sono necessari all'attuazione nel dettaglio delle disposizioni del piano regolatore, ovvero i piani attuativi. Sempre la legge 1150 del 1942 introdusse l'uso delle norme sull'attività costruttiva, anche tramite degli opportuni regolamenti e l'utilizzo della cosiddetta licenza edilizia, che era necessaria al fine di edificare in particolare all'interno dei centri abitati. Quindi furono delimitate alcune zone dette centri abitati e all'interno di questi per edificare era necessaria, con la legge 1150 del 1942, la cosiddetta licenza edilizia. E' da citare poi, anche se attualmente risulta abrogata, la legge 1902 del 1952, che introdusse le cosiddette misure di salvaguardia. Cosa sono? Di queste parleremo nel dettaglio anche in alcuni video successivi. In merito, occorre premettere che in generale la preparazione di un piano urbanistico è un processo abbastanza lungo e che prevede varie fasi che possono raggrupparsi in una prima fase di adozione del piano e successivamente nella fase di approvazione. Solo per accennare quindi a cosa sono le misure di salvaguardia, queste consistono in una serie di disposizioni che mirano ad evitare la compromissione dell'efficacia del piano urbanistico nel periodo che intercorre tra l'adozione e l'approvazione del piano stesso. In particolare, le misure di salvaguardia si attuano impedendo il rilascio di permessi di costruire a seguito dell'adozione del piano e prima della sua approvazione. Qualora tali permessi di costruire, in generale quegli interventi edilizi, potrebbero compromettere l'effettiva possibilità di attuare il piano. Altra legge urbanistica molto importante poi è la legge del 1962 numero 167. Questa ha introdotto tale legge una serie di disposizioni per favorire la cosiddetta edilizia economica e popolare, ovvero la costruzione di edifici da destinare alla popolazione a prezzi ragionevoli ed accessibili. Tali misure sono attuate prevedendo l'elaborazione dei cosiddetti PEEP, ovvero i piani per l'edilizia economica e popolare, obbligatori per i comuni con più di 50.000 abitanti e facoltativi per gli altri comuni. Tali altri comuni in particolare possono procedere tramite i cosiddetti piani consortili, ovvero unendosi in questi piani a dei comuni limitrofi. Successivamente nel 67 venne pubblicata la legge numero 765, 765 del 67, detta anche legge ponte. Questa contiene un'importante riforma della legge 1150 del 42 e tale norma in breve ha esteso la necessità della licenza edilizia su tutto il territorio nazionale e non più nei soli centri abitati, ha introdotto il limite massimo di edificabilità, ovvero un parametro che definisce quanto può essere grande un edificio su un terreno edificabile. La legge 765 del 67 poi introdusse il requisito nella presenza delle opere di urbanizzazione primaria ai fini dell'edificabilità. Tali opere di urbanizzazione primaria, per accennarle e le vedremo meglio successivamente, comprendono ad esempio le strade residenziali, gli spazi di soste o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, eccetera. Infine, sempre la legge ponte, ha previsto un rafforzamento delle norme di salvaguardia nel periodo tra adozione e approvazione degli strumenti urbanistici. Veniamo poi nel 1971 alla legge numero 865, detta anche legge per la casa. Tale legge, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, già introdotta con la legge 167 del 62, andò a definire le procedure spropriative da seguire per l'attuazione dei PEP. Inoltre, sempre la legge 865 del 71 contiene una disciplina per l'elaborazione dei cosiddetti PIP, ovvero i piani per gli insediamenti produttivi necessari appunto allo sviluppo delle zone destinate destinate alle industrie. Veniamo quindi alla legge poi numero 10 del 77, detta anche legge Bucalossi. Tale legge, tra le varie cose, ha ampliato la necessità di richiedere il titolo abilitativo, ovvero la licenza edilizia, non più solo nel caso di costruzione di edifici, ma anche nel caso della realizzazione di piani urbanistici. Inoltre, con la legge 10 del 77, la vecchia licenza edilizia è stata convertita in concessione edilizia. Quest'ultima in particolare divenne a titolo oneroso, ovvero al fine del suo rilascio diventava necessario il pagamento di un cosiddetto contributo di costruzione, come è ancora oggi, di cui parleremo meglio successivamente. Tale contributo era connesso con gli oneri di urbanizzazione, che vengono sostenuti ad esempio per la realizzazione della rete idrica, fognaria, di illuminazione eccetera, e con i costi di costruzione, dipendenti dall'opera effettivamente realizzata. Come vedremo successivamente, la concessione edilizia è stata poi sostituita dall'attuale permesso di costruire del cosiddetto testo unico sull'edilizia DPR 380 del 2001. È bene però sottolineare che licenza, concessione e autorizzazione o permesso non sono le stesse cose. In particolare la vecchia licenza edilizia, a differenza della concessione e del permesso, era originariamente gratuita, come abbiamo detto. Inoltre c'è da dire che mentre concettualmente licenze e autorizzazione possono ritenersi molto simili tra loro, la concessione edilizia ha una notevole differenza concettuale. Infatti, nel caso delle licenze e delle autorizzazioni o permessi, si riconosce al soggetto che fa richiesta di esercitare un proprio diritto o un'attività che è già gli viene autorizzata la possibilità di esercitare quell'attività che era già in capo al soggetto stesso. In questo caso lo si autorizza a svolgere un'attività edilizia, ad esempio edificare un nuovo edificio. In altre parole, nel caso delle licenze e delle autorizzazioni e dei permessi, si riconosce al soggetto il diritto di edificare previa una semplice verifica di tutti i presupposti di legge. Nel caso invece della concessione, la pubblica amministrazione trasla da se stessa al soggetto richiedente il diritto di edificare, ponendosi originariamente quindi in una posizione più autoritativa e quindi a privato solo successivamente si riconosce il diritto di edificare, mentre invece originariamente si assume che questo diritto sia solo della pubblica amministrazione. In seguito poi troviamo la legge numero 457 del 78, detto piano decennale per la casa ed intitolata norme per l'edilizia residenziale. Tra le varie disposizioni, la legge per la casa ha previsto che i comuni individuino, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Veniamo poi alla legge 47 dell'85. Tale legge è nota come primo condono edilizio. Vi sono poi stati altri due condoni. Il secondo condono edilizio è stato disposto con la legge numero 724 del 94 e infine il terzo condono edilizio è quello della legge 326 del 2003. In breve il condono edilizio permette di sanare in un periodo di tempo ben definito delle opere in contrasto con le norme urbanistiche, sottraendosi ai relativi provvedimenti sanzionatori e presentando domanda entro un termine previsto dalla legge sul condono. Molto importanti poi sono la legge 142 del 90, attualmente approcata, e la legge 267 del 2000, ovvero il cosiddetto testo unico degli enti locali. Queste infatti hanno introdotto lo strumento dell'accordo di programma e di piani urbanistici e urbani di intervento. Con questi strumenti è possibile attuare anche mediante associazioni tra più pubbliche amministrazioni o tra PA e privati dei piani urbanistici generali. Si cita poi la legge 179 del 2002 che ha voluto introdurre una serie di disposizioni per la definizione di programmi di intervento mirati alla bonifica di siti contaminati. Veniamo quindi in questa disamina delle principali norme urbanistiche che si connettono poi inevitabilmente anche con l'edilizia. Veniamo poi al DL 398 del 93, convertito con modifiche nella legge 493 dello stesso anno. Tale norma ha definito in particolare all'articolo 11 i cosiddetti programmi di recupero urbano che sono costituiti da un insieme sistematico di opere che hanno come scopo la realizzazione, la manutenzione e l'ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi e delle reti, nonché anche delle opere di... una modernizzazione ha previsto delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché edificazione di completamento e integrazione dei complessi urbanistici esistenti. E' ha previsto poi anche l'inserimento di elementi di arredo urbano, lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia degli edifici. Da citare, in quanto hanno effetto anche in ambito urbanistico, sono poi le norme del cosiddetto piano casa. In primo luogo, ad esempio, è da fare riferimento al DL 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008. Tale piano casa ha come scopo quello di garantire sul territorio nazionale dei livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, come si legge appunto all'articolo 11 della stessa legge. Il piano casa, in particolare, ha previsto una serie di misure, anche in deroga agli strumenti urbanistici, per favorire l'attività edilizia. Ed in particolare sono previsti, ad esempio, aumenti di volumetria fino al 20%, demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria fino al 35% e procedure edilizie semplificate. Il piano casa, ai fini della sua concreta realizzazione, è stato recepito con delle leggi regionali ed attualmente in alcune regioni risulta attivo e stabile, mentre in altre non è stato attuato oppure ha terminato il suo periodo di validità. Regioni, infatti, hanno un ruolo molto importante in ambito sia urbanistico che edilizio e in generale di governo del territorio. Questa materia, infatti, come sancisce la Costituzione all'articolo 117,3, è una disciplina cosiddetta concorrente tra Stato e regioni ordinarie, mentre addirittura è una disciplina esclusiva per quanto riguarda le regioni autonome. Questo significa che le regioni hanno il compito di regolamentare nel dettaglio le materie dell'urbanistica e dell'edilizia, sempre però nel rispetto dei principi fondamentali statali, che sono appunto quelli stabiliti con le leggi dello Stato e in particolare quelle che abbiamo visto oggi. Perciò, nel seguito, in questa slide, ad esempio, si vedono quelle che sono le leggi regionali che disciplinano in particolare il piano casa. Vedremo poi, alla fine della presentazione, in una specifica sezione, che le regioni hanno anche emanato delle specifiche leggi per la disciplina appunto dell'attività urbanistica ed edilizia.